Raga, sono molto preoccupato per quello che sto vedendo intorno al Milan, sia per quanto riguarda il calciomercato di questo gennaio, che deve essere veloce, rapido, scattante, anche rispetto a quelle che sono poi le decisioni del Keb, rispetto al futuro della nostra squadra. Mi preoccupa molto anche la rassegnazione che c'è intorno a tutto quello che è il mondo Milan, soprattutto dalla parte di noi tifosi che, perso il campionato e persa anche la Champions, non c'è più questo entusiasmo, questa voglia di Milan che c'era fino a un po' di tempo fa. E questa cosa può anche ripercuotersi contro di noi e contro la nostra squadra. Poi vedo questo cercare di tirare avanti, questo non voler prendere dalle decisioni forti, questo tirare a campare, perché è strategia di tirare a campare. Di tutto questo parleremo nel video, ma prima vi invito a iscrivervi al canale, a lasciare un pollice in su e benzinero. Vi invito anche, che non ve lo dico mai, se vi va, a entrare nel gruppo Whatsapp del Benzinero. Gruppo Whatsapp che mi mandate il numero su Instagram o per mail, la mail la trovate in descrizione. È solo per milanisti, non faccio entrare tutti gli iscritti, anche delle altre squadre, per evitare le guerriglie su Whatsapp. Questo Whatsapp è solo per milanisti. Perché sono preoccupato del mercato? Perché, e soprattutto della partita di venerdì contro il Sassuolo, perché il Milan si presenta contro il Sassuolo, che già di per sé è una nostra bestia nera, con Kier, Pellegrino e Simic. Poi sappiamo tutti che 90 su 100, quel fenomeno di allenatore che abbiamo, non punterà su Simic, ma ti sbatterà dentro un Tvernandez così a cazzo a fare il centrale di difesa, perdendo poi il nostro terzino di spinta. Che ormai abbiamo capito che è un'assurdità, una roba del genere, però a lui piace. Va bene così, per carità. Le decisioni del mister, oggi, non voglio neanche più discuterle. Tanto abbiamo già visto quello che ha dato a oggi, siamo fuori dalla Champions e anche dal campionato. E questa è una situazione preoccupante, visto che Kier è uno su cui non puoi contare. Ma soprattutto è preoccupante perché il Milan perde i due difensori centrali, titolari. Cioè è quello che io dico alla società. Abbiamo perso per almeno due mesi i difensori centrali titolari. Cioè nel mercato di gennaio vogliamo tirare a campare, prendere i giocatori per fare numero? O vogliamo aumentare la forza, il livello di questo Milan, che ha preso 64-65 gol già nel 2023? Record assoluto del Milan. Cioè mai solo negli anni 34-35 abbiamo preso così tanti gol. Stefano Pioli è riuscito a battere anche questo record. Lo dico per i Pioli's on fire e per quelli che bisogna continuare con Stefano Pioli. Perché poi vanno detti a queste persone questi dati, lasciando perdere i cinque derby persi. Comunque bisogna fare un salto di qualità. Il salto di qualità non lo fai riportando a casa Gabbia. Perché Gabbia Stefano Pioli al Milan non lo faceva mai giocare. Hai preso Pellegrino, che è una sciagura umana, fino adesso, quelle poche volte che è stato utilizzato, è una sciagura umana. Cioè a oggi se arriva Gabbia, io gioco ancora con Simi Cechier, titolare, nonostante tutto. Dopo che Gabbia possa essere una buona riserva, ok. Stiamo andando a cercare di prendere Muki Ali dal Paris Saint Germain, che può fare sia il terzino che il difensore centrale. Ma andiamo a commettere gli errori che abbiamo commesso quest'estate. Che sì, è stata una molto buona campagna acquisti. Nessuno, eravamo tutti contenti. Nessuno ha criticato la campagna acquisti. O comunque poca gente. Erano tutti entusiasti. Che però a questo punto, a ragione Sacchi, l'errore stava nell'aver preso solo giocatori stranieri o che giocano in campionati esteri. Che quindi sono dovuti venire in Italia e ci vorrà un annetto ora che si abituano, si ambientano e si trovano nel nostro campionato. Poi non è sempre così, perché il campione si abitua subito al campionato. E andiamo ancora a prendere questo giocatore che, sì, gioca nel P&G, ma gioca poco. Deve prendere il minutaggio. Stessa cosa per l'inglese. Gioca nel Barcellona e non ha mai giocato. È andato all'Aston Villa e non sta giocando. Capite bene che ora che si adatta al campionato italiano, ora che prende i minutaggi nelle gambe, probabilmente, Mare, mi ha fatto anche dei danni. Non sono questi i giocatori che ci fanno fare il salto di qualità. Cioè noi dobbiamo operare sul mercato per quanto riguarda i difensori, che ripeto, dobbiamo sostituire due difensori titolari nel campionato italiano. Costano? Mi devi dimostrare gran testa di cazzo di un cardinale che hai i coglioni e che non parli solo di vittorie perché, ripeto, il tuo calcio mercato l'anno scorso è stato finanziato da tonali, nonostante avessimo incassato più di 100 milioni dalla semifinale di Champions, da tutto il percorso Champions e campionato. E il tuo vero budget è stato di 47 milioni, di meno dell'anno prima che non avevamo incassato così tanti soldi. Quindi tu il mercato in realtà l'hai fatto con le cessioni, io non sono scemo, come altri che ti osannano ogni 3x2, io non sono scemo, i calcoli li so fare. Quindi adesso mi devi dimostrare di che pasta sei fatto, perché al Milan, te lo dico subito, chi serve, vuoi portare gabbia? Va bene, c'hai Simic, Pellegrino e Chia, ma poi devi prendere un Buongiorno del Torino, Buongiorno del Torino è un giovane italiano che in difesa sta andando forte, sta diventando un top e il salto di qualità lo fa se viene in una grande squadra. Costa 25 milioni, 30 milioni, chi se ne fotte? Chi se ne fotte? Te lo prendi e lo paghi, punto. A me non sono un economo, non me ne fotte un cazzo. Però prendi un giocatore che non si deve adattare, si deve solo adattare un attimino a Pioli, è italiano, non deve imparare la lingua e tu hai messo un difensore forte in difesa. Prendi questi qua, sì, sì, Mucchialè, va bene, giocare al PSG magari è forte, ma si deve adattare. Buongiorno, c'è! Se non lo prendi, se vai a prendere questa gente qua in prestito, è perché sei un sacco di merda. Te lo dico io, tu sei un sacco di merda. se vai a prendere questi giocatori qua. Ma tu non puoi pensare che passiamo da Tomori e Zav a Kier e Gabbia, perché già con Tomori e Zav abbiamo fatto cagare fino adesso. Con Kier e Gabbia faremo ancora più cagare e arriviamo ottavi in campionato, non quarti, ottavi. perché poi con questo mercato qua, manco se arriva il Magu Udini riesce a fare meglio. Il capitolo Guarissi, vi dico raga, non è più la priorità per me in questo momento. Adesso noi dobbiamo prendere due difensori che devono giocare titolari e anche un centrocampista che sostituisce bene a Serra, perché sappiamo la molteplicità dei problemi che ha il Milan. Se arriva Guarissi, va bene, perché quando arriva l'Europa League serve un attaccante in più, l'abbiamo già detto tutta stagione. Ma detto questo, tu puoi fare tutto il mercato che vuoi, tutto il mercato, ma se poi ti si rompono altri sei giocatori, non ne puoi prendere quaranta. Però, piuttosto di prendere delle mezze peri, prendiamo dei giocatori, facciamo giocare con la primavera, affondare per affondare, affondo con la primavera. Almeno vedo dei giocatori che hanno voglia e fame, non che vengono a sbarcare il lunario. Raga, sempre Forza Milan, iscrivetevi al canale, se arriva gente del cazzo, io passo tutto il gennaio a insultare tutti, io ve lo dico, sempre Forza Milan.